allora preservate tutti gang shit tirando su qua poi tag a me dar polo gang capo plaza ava fateci vedere che avete tutti preservato il pezzo gang shit è una bomba stay ready innanzitutto volevo solo dire una cosa apolli chickens tra me il g17 27 è tutto ok ci sono dei downs che pensano cose negative quindi cazzo c'è da dire quindi seguite tutti mio fratello qui adesso se non lo fate siete dei cazzo di buffi e poi avevo una cosa da dire che è il mio messaggio primario un messaggio che do sempre a tutti fanculo la negatività e viva la positività essere positivi vi aiuterà sempre a uscire fuori dalla merda ok nella vita ci sono un sacco di problemi tutti abbiamo i problemi come sono riuscito io a superare tanti problemi che ho avuto nella vita che magari un giorno vi spiegherò un giorno vi racconterò sono sicuro che tutti la positività è la nostra arma e nessuno ce la può togliere siamo uscire come tutti i fischelli di quartiere tutti i fischelli ricchi tutti i fischelli di medio classi qualsiasi persona può farcela basta credere in se stessi fare qualcosa di serio nella vita fare arte fare qualcosa che nessun altro riesce a fare ok credi in te stesso principalmente e questo messaggio va a qualsiasi ragazzo come va a mio g17 27 questo messaggio va a chiunque di ispirazioni da un messaggio di ispirazione come quel libro colletto lì di ibra che qui dice puoi levare il ghetto non puoi levare il piscello dal ghetto ma non puoi levare il ghetto dal piscello capito una cosa vera c'è come un giorno sarà quel dr dre ma come per me chiunque piscello un giorno sarà quel dr dre ibrahimovic totti michael jordan ognuno può essere quello che volete rega quindi fan culo le male lingue così si dice ma spera sto chiedendo la cucina ecco fate questo fate questo qui c'è questa luce g come qua mamma mia è che faccio qua guardi stupro lo studio bro ci metti i flanger su questo non c'hai bacchette però piazza e bacchette non sto a giocare da mania insomma i miei fratellini qua i miei fratellini di ppr squad li sono fatti in altro studio custodia al mese fai il dottore di torno no fan culo chi dice che non so a parlare almeno io dico le cose nessuno dice un cazzo stanno tutti sempre a fai vaghi a fa meno io dico quello che penso no cioè tutti dicono quello che penso ma nessuno da un messaggio tipo di culo chiunque dice non ce te fa ok messaggi positivi sempre ti dighi o non dighi come da ragazzino che chi vuole fare calcio mi si mette il poster del calciatore nella stanza e magari un giorno vuole diventare così per me la stessa cosa io c'ho il poster di dr dre io spero un giorno di diventare quel dr dre ora sono il per due ok